Allora, prima di iniziare a parlare di Ajax, che è l'argomento del lezione di oggi, qualche informazione sulle modalità d'esame. Abbiamo ragionato anche con l'autore Diego Monti sulle modalità per farvi svolgere l'esame e la modalità che ci sembra più ragionevole, più fattibile, soprattutto meno rischiosa in termini di possibili malfunzionamenti, supporto dei sistemi del Politecnico e quant'altro, è la seguente. Rispetto al classico tema d'esame, che volendo vi posso anche far vedere, quindi possiamo andare a prendere uno dei temi d'esame passati, prendiamone uno recente, questo qua ad esempio. Allora, come erano fatti i temi d'esame che venivano utilizzati in passato, sostanzialmente fino all'appello di gennaio in realtà. Veniva presentata una visualizzazione, dopodiché vi veniva chiesto di fare un'analisi in termini di domande, di dati e di analisi visuale, termini di proporzionalità, utilità e chiarezza. Questa parte sostanzialmente io la manterei esattamente identica prima. L'unica differenza è che invece di farla al calcolatore, andando a modificare direttamente l'HTML, la farete online con un sistema che si chiama exam, che è sostanzialmente un sistema di questionario online. La parte di design, che invece richiede comunque l'uso di strumenti particolari, in particolare WebStorm, per andare a scrivere il codice e far funzionare il tutto, non la svolgerete direttamente durante l'esame, ma quello che vi chiederemo è sostanzialmente di andare a scrivere in un campo di testo libero quali sono le vostre intenzioni, quindi qual è la vostra idea di redesign. Ovviamente non dovete scrivere pagine e pagine, bastano 5 righe, 10 righe, a seconda di quanto volete essere dettagliati, andando a dire io il diagramma, che non andava bene per i motivi che sono elencati sopra, lo potrei ridisegnare in questo modo. Potete anche mettere più di un'alternativa, se avete in mente un paio di alternative. La parte ultima delle domande di teoria, di nuovo, resterà tale e quale. Sostanzialmente verrà chiesto di compilarlo, invece che andando a scrivere il codice HTML, come veniva fatto in laboratorio, andando a rispondere su un questionario online. Quindi la struttura sostanzialmente resta la stessa. La parte di, diciamo così, riprogettazione, invece la dovrete svolgere a casa. Quindi avrete i vostri PC, WebStorm che avrete installato a casa e partendo da quanto avete fatto durante il laboratorio, potrete fare con calma fare questa operazione di redesign. Ovviamente facendolo a casa, in relativa calma, mi aspetto che facciate un buon lavoro. Quindi mentre in laboratorio, avendo un tempo limitato, i dettagli minimi di solito non venivano considerati, ecco in questo caso mi aspetto che facciano un lavoro molto dettagliato e raffinato. Quindi i minimi dettagli, le scritte sugli assi, i nomi, la scelta di colori, eccetera, devono essere fatti bene. Ok, quindi aspetti, diciamo, di stile che non venivano considerati nella valutazione del laboratorio, proprio perché c'era poco tempo, in questo caso verranno valutati. Quindi dovete fare un bel lavoro. Ovviamente mi aspetto che quanto facciate sia abbastanza coerente con quello che avete scritto durante l'esame. Quindi se mi avete scritto, ah, io penso di usare un diagramma a barre e poi mi fate una heatmap, probabilmente c'è qualcosa che non va. La heatmap magari l'avete fatta benissimo, ma però probabilmente avete sbagliato a capire qual è un possibile redesign. Magari c'è una motivazione molto valida, quindi avete voluto fare un diagramma a barre e non vi è piaciuto e allora avete cercato un'altra soluzione. Ecco però, nel caso io vi chiedo comunque di fare la soluzione che avete pensato e poi fare eventuali altre soluzioni alternative. Di nuovo, non avete dei stringenti limiti di tempo, quindi ragionevolmente mi aspetto un buon lavoro. Da casa ovviamente io mi aspetto che voi lavoriate in maniera autonoma. Avete accesso alla documentazione, quindi se avete un problema tecnico e ovviamente potete andare a ricercarlo, però il lavoro, quindi la scrittura del redesign, del grafico, deve essere fatta in maniera assolutamente autonoma. Per cui io andrò a chiedervi, oltre alla consegna di questo, una vostra certificazione in cui voi dichiarate che avete fatto il lavoro in maniera autonoma. Ovviamente se non è così, se ci sono evidenti copie o plagi, questo ovviamente verrà usato contro di voi. Questa è l'idea generale dell'esame. Ovviamente ci sono un po' di dettagli molto pratici che dobbiamo ancora definire e quindi non vi posso dare ancora un foglio con su scritte le regole d'esame dettagliate, però diciamo che queste sono le decisioni principali in modo che sappiate più o meno cosa aspettarvi. Allora, quanto pesano? Normalmente nella valutazione, c'è anche scritto qua, ci torniamo sulla pagina del corso. Abbiamo tre punti per le domande di teoria che non cambiano. Abbiamo 13 punti per l'analisi e 14 punti per il redesign, dove il redesign viene considerato anche, non soltanto quello che mi fate a casa e mi mandate, ma anche i commenti che voi andate a scrivere durante l'esame. Vengono sottratti i punti in caso di errore? Immagino che tu ti riferisca alle domande di teoria, no, sostanzialmente se sbagliate è a zero. C'è un termine ultimo entro cui va consegnato il redesign dopo lo scritto? Sì, non abbiamo ancora deciso esattamente quanto tempo darvi, però ragionevolmente, diciamo, un giorno o due. So che poi ci sono altri esami, sovrapposizioni, quindi non ve lo farei consegnare esattamente lo stesso giorno, perché intanto non cambia nulla, cioè o vi do due ore di tempo e voi lo fate in quelle due ore, ma se vi diamo un po' più di tempo è ragionevole darvi qualche giorno. Due, tre giorni, tra l'altro potrebbe variare in funzione del giorno in cui capitano gli esami, per cui magari se c'è un weekend subito dopo immagino che abbiate più tempo per lavorare, se non c'è immagino che magari abbiate il rischio di altri esami concomitanti, quindi diciamo due o tre giorni indicativamente. Un paio di giorni lavorativi potrebbe essere la regola. Di nuovo, sono dettagli a cui non abbiamo ancora dato una risposta precisa e quindi prendetelo con il beneficio dell'interventario, giusto per avere un'idea. Rispetto agli esami che sono presenti, di cui ci sono anche le soluzioni, quest'anno la parte di analisi dei dati è stata fatta in maniera un pochettino più approfondita, un po' più strutturata e quindi mi aspetto che non la facciate in maniera così libera, ma sarà fatta secondo le caratteristiche di qualità dell'ISO 25012, a meno quelle rilevanti per la visualizzazione, esattamente come nel laboratorio della settimana scorsa, in modo che abbiate un'idea di come dovrebbe essere fatta. Allora, visto che il lavoro lo farete per conto vostro in autonomia, pensavamo di non farvi svolgere i progetti, però di nuovo questa è un'idea che dobbiamo confermare. Stiamo ancora valutando. Prima dobbiamo decidere esattamente le modalità d'esame e poi le eventuali varianti. Di nuovo, altro aspetto. A fronte di dubbi o altro, ovviamente ci riserviamo, prima di assegnare il voto, di convocarvi per un orale, e quindi orale che vuol dire sostanzialmente una discussione del lavoro che avete fatto, quindi non una parte di orale di teoria, ma bensì una discussione del lavoro se abbiamo dubbi o c'è qualcosa che non ci torna. Per cui, so, nella parte testuale di redesign che avete fatto all'esame, avete scritto delle grandi stupidaggini e poi avete fatto un redesign perfetto, ecco questo, diciamo, che quantomeno può sollevare qualche dubbio. E quindi, di nuovo, su nostra decisione possiamo chiedere a qualcuno di fare una parte orale di discussione del lavoro che è stato fatto. Non sono in grado di darvi ulteriori dettagli perché per l'appunto abbiamo deciso le linee principali, adesso dobbiamo scrivere il regolamento d'esame preciso, dettagliato, rivederlo, verificare che sia fattibile, e dopodiché ve lo pubblico e eventualmente discutiamo poi a quel punto i dettagli del regolamento d'esame. Però ci tenevo a dirvi più o meno in generale come è fatto l'esame il prima possibile, in modo che sapete cosa aspettarvi, ovvero nulla di tanto diverso rispetto agli esami degli anni passati. Ok. Altre domande o curiosità? E ripeto, non sono in grado di darvi troppo... Esercizi del laboratorio della scorsa volta. Ecco, adesso ci siamo. Volevo discutere veramente velocemente con voi il secondo esercizio e poi vi pubblico anche le soluzioni. Allora, per quanto riguarda la... Allora, domanda 1. Quanto tempo avremo per svolgere la parte di teoria? Allora, non c'è teoria e il resto separatamente, ma c'è un tutt'uno, quindi diciamo la parte online che include l'analisi e poi la teoria. non abbiamo ancora deciso, quindi dobbiamo un po' valutare le tempistiche anche in base al passato, però indicativamente tra 30 minuti e un'ora. Potrebbe variare, dobbiamo un attimo valutare esattamente quanto tempo è necessario per fare soltanto quella parte. Per avere l'accesso al materiale, su questo devo verificare come funziona esattamente la piattaforma di gestione degli esami, per cui capire se è possibile caricare lì sopra, ad esempio, i lucidi, oppure no. Tendenzialmente vi darei accesso ai lucidi se volete fare una verifica di alcuni aspetti, soprattutto per la parte di analisi, però non ve lo posso confermare in questo momento. Per le date, allora, per le date al momento, quello che mi è stato detto è che le date provvisorie dovrebbero essere il 25 giugno e il 9 luglio. Tuttavia è un qualcosa di molto, molto provvisorio, quindi non è detto che siano confermate, però indicativamente potrebbero essere quelle, quindi ci sono 15 giorni di tempo dal primo al secondo, appello, e dovrebbero essere il 25 e il 9. Allora, domanda, la parte di redesign si intende rifare il grafico? Sì, con Excel no, e di visualizzarlo sulla pagina HTML, esattamente. Non utilizzerete Excel, ma utilizzerete JavaScript, più una libreria che si chiama Plotly, che vedremo la settimana prossima, che è quella su cui dovrete utilizzare per fare il vostro redesign. Allora, l'idea è quella. Allora... 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 allora scusate mi è saltata la connessione spero che riusciate ancora a sentirmi correttamente allora quello che volevo fare era mostrarvi qua la parte di laboratorio della scorsa volta allora domanda in caso di sovrapposizione con altri esami non c'è modo di rimediare tendenzialmente no però sui due appelli spero che non abbiate doppia sovrapposizione nel caso cerchiamo allora se appena ci sono le date definitive notate che ci sono delle sovrapposizioni fatemelo sapere perché così cerchiamo di eventualmente fare qualche variazione magari anche soltanto di orario in teoria non dovrebbero esserci sovrapposizioni con esami del terzo anno su quelli degli anni precedenti non c'è garanzia anche perché è abbastanza complicato tra l'altro so che stanno rivedendo tutta la parte di gestione degli orari degli esami perché le piattaforme online hanno un carico massimo quindi se ci sono 50 esami quindi 7-8 mila studenti che stanno facendo magari esami diversi ma in contemporanea non è detto che la piattaforma riesca a reggere mentre fisicamente ognuno sta in un'aula diversa e quindi quel problema lì quando si fa in aula non si pone nel caso di una piattaforma online non è detto che ci sia il supporto quindi le date che vi ho detto prima sono molto molto indicative potrebbero sicuramente cambiare ancora allora questo è il secondo la seconda parte dell'esercizio che avevo proposto la volta scorsa il tema non è particolarmente allegro ma tralasciando questo aspetto cerchiamo di andare a vedere quali sono gli aspetti particolarmente significativi allora ci sono alcuni aspetti grafici molto evidenti quindi ad esempio il fatto che non ci sia un'indicazione dell'asse x è un problema perché non ci fa interpretare correttamente la lunghezza delle barre quindi non avendo una chiara interpretazione della lunghezza delle barre e avendo due numeri riportati per ognuna di queste barre è chiaro che c'è qualche piccolo problema sostanzialmente di comprensibilità e quindi è difficile andare a capire cosa rappresentano i numeri vi faccio un esempio vedete che la prima barra che è molto lunga è più del doppio della seconda in pratica corrisponde a un valore che è 41.000 rispetto a 110.000 quindi la lunghezza delle barre sicuramente non è proporzionale a questa prima cifra la lunghezza delle barre è tuttavia che è proporzionale a il numero di suicidi su il numero di medici vi faccio notare che physician in inglese significa medico e non fisico fisico si dice physicist allora ci sono diversi aspetti che riguardano questo adesso poi li vediamo dettagliati in realtà un problema di consistenza io ce l'ho se ho due aspetti della mia visualizzazione che sono in contraddittorio l'uno con l'altro il fatto che la barra non sia proporzionale a questo numero io lo vedrei più che altro come un problema di comprensibilità perché in realtà la barra è proporzionale al numero di suicidi fratto il numero di medici quindi i due numeri ci sono e la barra è proporzionale a questo valore il problema è capire che effettivamente quello è il legame quindi lo metterei questo aspetto più sotto il problema di comprensibilità che su un problema di consistenza il problema di consistenza invece c'è se io vado a fare la somma di tutti questi suicidi quindi quelli tra parentesi e lo confronto con 1103 ora non ricordo se l'ho riportato qua sotto ecco vabbè ho messo che la somma non è 1103 però non mi ricordo esattamente la somma eviterei di farla a memoria adesso però se voi sommate tutti questi numeri non fa 1103 quindi c'è qualcosa che manca e quindi quello è sicuramente un problema di consistenza un problema di inconsistenza o chiarezza è il fatto che la lunghezza di queste barre come vi dicevo è proporzionale al numero di suicidi diviso il numero di medici ma quello che c'è scritto qua è il contrario cioè active physicians diviso cases però la lunghezza delle barre è proporzionale all'inverso di quel rapporto quindi questo può essere un altro problema di consistenza o se volete a cavallo tra inconsistenza e comprensibilità nel senso che qua ci dicono una cosa e poi la barra è proporzionale a un'altra cosa non è... allora quando ci sono dei problemi che potrebbero essere interpretati da due punti di vista la cosa fondamentale non è che voi me lo mettiate sotto la categoria più corretta l'importante è che voi indichiate che quello è un problema se poi me lo date come un problema di conerenza di consistenza piuttosto che come un problema di comprensibilità per me da un punto di vista di valutazione non è un grosso problema ok? per me la risposta è valida lo stesso l'importante è che identificate il problema e me lo mettiate è chiaro che non dovete mettermelo sotto una categoria che non c'entra nulla e quindi accuratezza io qui ho messo parziale perché i numeri che abbiamo qua ad esempio chirurgi e specialisti di medicina interna ovviamente vedete che sono molto tondi 114.000 110.000 è improbabile che ci siano 41.351 anestesisti ma 110.000 tondi chirurgi qualcosa non quadra quindi è ovvio che qui abbiamo un problema di accuratezza questo numero non corrisponde al numero vero è un'approssimazione completezza allora io non sono un esperto di medicina non so se queste sono tutte le categorie principali possibili di medici quindi non so se ne manca qualcuna qui sotto per cui posso assumere che sia completo non ho ragione per credere che non lo sia e i dati immagino che siano tutti non ho nessuna nessuna informazione che mi suggerisca che manca qualcosa consistenza abbiamo detto no perché la somma di questi suicidi rispetto a questo numero qua 1103 non coincidono altro aspetto il numero di medici è un dato del 2016 ovviamente i suicidi non sono probabilmente stati solo quelli dell'anno 2016 sono su un intervallo più lungo quindi sto facendo un rapporto su un numero di suicidi su un intervallo di anni ma vado a prendere il numero di medici in un anno specifico domanda essendo che non è consistente possiamo dedurre che mancano dei dati allora sì è il caso che vi dicevo prima il fatto che la somma adesso non ricordo però mi pare che sia inferiore a 1103 se la somma è inferiore a 1103 significa che ci mancano dei dati quindi quello può essere o un problema di consistenza quindi quella somma e l'altro non sono consistenti oppure il fatto che il totale 1103 e nel grafico non sono riportati tutti quindi l'importante è che evidenziate il fatto che i due numeri non corrispondono poi che il metti altro sotto consistenza sotto completezza di nuovo può essere corretto in entrambi i casi direi che gli ultimi tre commenti vanno tutti in questa direzione potrebbe esserci un altro sì per cui o è un problema di inconsistenza per cui i numeri non sono stati fatti correttamente o un problema di completezza credibilità qui non c'è nulla però qui c'è scritto che c'è un'associazione di medici americani data report quindi immagino che ci sia una qualche organizzazione che ha raccolto questi dati quindi posso assumere che ragionevolmente sia credibile che quei dati siano ragionevoli e quindi arrivino da una fonte corretta comprensibilità ebbè è quello che vi dicevo prima la lunghezza delle barre non codifica né il numero di medici né il numero di suicidi ma il rapporto tra i due che tra l'altro è il contrario di quello che è riportato sopra l'asse la precisione sono dei numeri interi e quindi ragionevolmente è corretta ok? quindi questo è il tipo di ragionamento che mi aspetto voi possiate fare a fronte di un grafico cercando di andare a commentare la parte di dati e poi ovviamente oltre ai dati c'è la parte di proporzionalità utilità e chiarezza la proporzionalità ecco qui c'è un problema nel senso che se voi non vi accorgete che la lunghezza di questa barra è proporzionale al rapporto tra 138 e 1351 potreste dire beh, questa barra non è proporzionale andando a considerare le prime due barre non sono uniformemente proporzionali né al primo numero né al secondo perché entrambi nella seconda barra sono più alti del secondo e quindi non mi date un problema di dati ma mi date un problema di proporzionalità se invece identificate il problema di dati e quindi capite a che cosa corrisponde la lunghezza della barra ecco quello potrebbe essere un problema che mi identificate dall'altra parte ovviamente qui non c'è un problema di proporzionalità però se mi rilevate un problema di proporzionalità non avendo rilevato un problema nei dati prima tutto sommato apprezzo il fatto che abbiate colto che c'è qualcosa che non torna non avete trovato qual era la causa ovvero che era un rapporto però comunque avete identificato che c'è qualcosa che non torna e quindi diciamo che non ve lo conto completa come risposta ma comunque vi do un minimo di valutazione domanda il fatto di utilizzare le abbreviazioni MFMM può essere considerato un errore di comprensibilità allora volendo potrebbe essere metto sotto comprensibilità in questo caso io forse lo metterei piuttosto su chiarezza dove tanto vedete che questo diagramma è enorme c'è qui sulla destra un ampissimo spazio vuoto queste barre non corrispondono a nulla sono state messe così sembra che siano per occupare spazio perché non corrispondono a nessun valore effettivo e quindi nulla vietava di andare a scrivere qui anestesista surgeon emergency medical obstetrician ginecology psychologist eccetera eccetera radiologist pediatrologist e internal medicine però di nuovo tornando al discorso di prima se mi identificate il problema me lo mettete sotto la categoria che non è forse quella più ideale va bene lo stesso allora è rilevante il fatto che mentre il dato dei medici attivi fa riferimento al 2016 non è chiaro dal grafico se i casi di suicidio fanno riferimento al 2016 o al 2018 questo di nuovo sì potrebbe essere un problema di comprensibilità oppure potrebbe essere un problema di consistenza tra i dati però sì effettivamente è un problema io ve l'avevo messo forse qua sotto ecco qua l'avevo messo come problema di consistenza il numero di medici del 2016 i suicidi sono probabilmente su un time frame diverso ve l'avevo messo su consistenza potrebbe andare a finire anche con l'entocomprensibilità ok mentre ci siamo una veloce panoramica degli altri aspetti quelli grafici abbiamo detto che in termini di proporzionalità se voi andate a vedere andate a fare i rapporti questi più o meno sono corretti rispetto al numero di suicidi sul numero di medici e quindi in termini di proporzionalità funziona in termini di utilità lo sfondo così questo giallo fosforescente a gradiente ecco quello a utilità zero queste barre verticali senza dei numeri sull'asse di nuovo non sono assolutamente utili domanda il fatto che ci sia un'approssimazione sul numero di medici in la categoria dei chirurgi potrebbe essere considerata un problema di precisione anziché di accuratezza sì diciamo che potrebbe rientrare sotto la precisione personalmente lo preferisco in termini di accuratezza nel senso che alcuni dati sono precisi altri no in questo caso la precisione di nuovo sarebbe soltanto qua mentre negli altri casi in realtà la precisione potrebbe rientrare per cui sì abbiamo detto utilità infine chiarezza in termini di chiarezza allora abbiamo detto i nomi delle diverse specialità di medicina che potrebbero essere scritti per esteso e quindi quello è un problema di chiarezza l'altro problema è che manca assolutamente una scala sull'asse X e questo è un altro problema di chiarezza perché non mi permette di capire allora domanda può essere un problema il fatto che la fonte sia riferita soltanto al numero di medici attivi e non anche sui suicidi e quindi avere un problema di credibilità perché non si sa dove arriva il dato dei suicidi sì il problema è sempre quello che abbiamo menzionato prima e abbiamo discusso potrebbe essere messo sotto la categoria di credibilità nel senso che ho una parte di dati che mi dice da dove arriva gli altri che non so da dove arrivano e quindi potrebbe essere meno credibile è un po' stiracchiata preferirei vederlo piuttosto come un problema di o consistenza o di comprensibilità però al limite potrebbe anche ricadere in termini di credibilità perché non tutti i dati sono diciamo così credibili ripeto l'importante è che voi identificate il problema se poi me lo mettete sotto la categoria che non è quella ideale non è un problema ok in termini di valutazione del voto allora domanda ma quindi il primo numero sulle barre corrisponde alle migliaia di medici della categoria e non è un rapporto no esattamente questi sono il numero di medici quindi 41.351 ricordatevi che questa è una notazione americana dove la virgola viene utilizzata come separatore delle migliaia e 138 è il numero di suicidi ok per cui qui veramente il problema principale di questo grafico è un problema di comprensibilità bisogna riuscire a fare dei giri strani delle prove e delle valutazioni per capire esattamente qual è il valore rappresentato sulla base allora scusate altra domanda allora domanda se andiamo se andiamo a valutare il grafico in termini di parametri di coerenza visiva quindi proporzionalità utilizza chiarezza ma il grafico fosse coerente con i dati da un punto di vista di visualizzazione è corretto il problema sono i dati che stanno dietro per cui sì bisogna fare attenzione quindi in questo caso il grafico è da considerare proporzionale il problema è che è difficile capire quali sono i numeri a cui è proporzionato il primo passo nel quel percorso di costruzione di un grafico è prendere i dati e poi andare a codificarli se dalla codifica in avanti tutto viene fatto correttamente posso assumere che la parte di visualizzazione sia corretta ovviamente c'è anche la valutazione dei dati e quella potrebbe ovviamente rilevare dei problemi allora domanda nei vari laboratori ho notato che ci sono alcuni aspetti su cui diversi aspetti su cui è possibile infatti tanti hanno portato a fare osservazioni diverse esistono problemi peggiori o altri secondari che incidono meno allora ci sono alcuni aspetti che sono evidenti è ovvio che qua giusto per farvene uno il fatto che questo numero non corrisponda alla somma di questi è meno evidente ok potrebbe essere considerato secondario il fatto che questo rapporto non si capisca da dove arriva invece è fondamentale il fatto che manchi l'asse è importante il fatto che ci sia uno sfondo graduato e quasi fosforescente di nuovo è importante in termini di utilità il dettaglio della somma ecco probabilmente questo è meno rilevante e come negli esempi che abbiamo allora l'esempio che abbiamo visto prima qui è ovvio che se voi non rilevate che la somma di queste percentuali non è 100% beh questo è un errore significativo uno degli elementi fondamentali di questo tipo di visualizzazione è proprio che vado a rappresentare parte tutto sui dati è ovvio che qualche dettaglio magari minimale potrebbe suggirvi tornando qua il fatto che queste abbreviazioni delle specialità mediche potrebbero essere scritte per esteso di nuovo non è così fondamentale e secondario domanda in caso di redesign della visualizzazione si potrebbe pensare di lasciare soltanto il valore della densità ovvero il numero di suicidi per numero di medici oppure è necessario mantenerli ragionevolmente è una scelta valida quindi avrei quelle sostanzialmente le barre analoghe a quelle lì con le stesse lunghezze però invece di andare a mettere i due numeri avrei quello che è il rapporto è assolutamente ragionevole come potrebbe essere ragionevole cercare di riportare entrambi i numeri o fare due grafici separati di questo non ho pubblicato una soluzione ma magari vi pubblico una soluzione dell'analisi di questo di questo diagramma con un po' di redesign possibile solo che arriva da un tema d'esame ma non di questo corso quindi il formato è leggermente diverso però ve lo pubblico perché in realtà poi i principi sono sostanzialmente gli stessi comunque nel momento in cui inizieremo a parlare di plotly quindi inizieremo a fare attività di costruzione di grafici allora inizieremo inizierete nel laboratorio non di questa settimana ma di quella successiva a costruire dei grafici e quel laboratorio sarà dedicato sostanzialmente a capire come funziona plotly e poi la settimana dopo inizierete sostanzialmente a fare dei temi design quindi mi pare che ce ne saranno altri due in cui partite da un caso di studio dovrete fare un'analisi fare redesign e poi costruire il grafico utilizzando la libreria che si chiama plotly ok a questo punto direi che passiamo velocemente alla parte relativa ad Ajax io vi ho pubblicato la parte la lezione relativa ad Ajax avete visto che si tratta di una una lezione molto breve perché in realtà non c'è tantissimo da dire se non come funziona e quali sono i limiti nell'ultima parte della lezione vi ho raccontato anche di una limitazione quella che si chiama la same origin policy che soltanto vi permette vi permette di accedere a dei dati qualunque sia il formato json, csv o xml soltanto se questi provengono dalla stessa origine quindi dallo stesso sito e in realtà la stessa porta e stesso protocollo per cui uno dei problemi che può dare la same origin policy è ad esempio il fatto che se io ho un sito che accedo in HTTPS non posso accedere dati che si trovano sullo stesso sito utilizzando il protocollo HTTP quindi o utilizzo HTTP per entrambi o utilizzo HTTPS quindi è veramente molto stringente questa policy quello che vediamo in questo file che vi ho aperto in WebStorm è sostanzialmente un file che contiene dati in formato json formato che vi ho presentato prima se andate a vedere nel dettaglio qui abbiamo un array nell'array ci sono tanti elementi e ogni elemento è un oggetto l'oggetto contiene questo esattamente sono esattamente i stessi dati che avevamo visto un paio di esercitazioni fa contiene il nome di un campo il valore ripetuto per quattro campi dove le proprietà di questi oggetti sono il nome dell'insegnamento l'anno dell'insegnamento il periodo didattico e il numero di crediti a questo punto quello che vorrei fare è andare a scrivere un frammento di codice javascript che mi permetta di leggere questi dati in questo momento io l'ho messi su un file ma possiamo tranquillamente immaginare che questo contenuto possa essere generato in maniera automatica da un sistema informativo andando a leggere dati che si trovano in un database non parliamo di sistemi informativi non parliamo di server non parliamo di database perché sono fuori dal contesto di questo corso però è ovvio che questo meccanismo si può agganciare a tanti altri che esulano dallo scopo di questo corso a questo punto quello che volevo fare è andare a creare vediamo se ci riusciamo andare a creare un nuovo file html corsi di studio esami il piano di studi anzi chiamiamolo il piano di studi e basta allora che cosa voglio fare io voglio andare a leggere questi dati e stamparli diciamo in una tabella è importante andare a capire che il meccanismo ajax è un meccanismo che essenzialmente funziona in maniera asincrona o è pensato fondamentalmente per funzionare in maniera asincrona questo cosa vuol dire vuol dire che viene fatta una richiesta poi la pagina vive di vita autonoma e indipendente e a un certo punto arrivano i dati dal server e in quel momento viene scatenata un'azione e quindi una funzione di callback che io ho registrato precedentemente che prende quei dati e ci fa qualcosa ad esempio inserisce da qualche parte ajax non è pensato comunque non funziona tanto bene in modalità sincrona ovvero dove io all'interno del codice javascript faccio una richiesta aspetto che mi arrivano i dati e blocco tutto perché? perché sostanzialmente questa attesa che i dati arrivino potrebbe essere abbastanza lunga e il risultato qual è? il risultato è che il rischio di avere la pagina html assolutamente bloccata perché? perché sostanzialmente all'interno di una pagina html esiste un unico flusso di esecuzione javascript e quindi io posso eseguire un solo programma javascript per volta quindi se il mio programma javascript è in attesa che arrivino dei dati dal server non può fare nient'altro quindi se io faccio un click su qualcos'altro che presuppone l'esecuzione di altro codice javascript quel codice javascript viene bloccato e non può essere eseguito finché non finisce l'altro quando l'altro finisce allora l'evento verrà gestito e verrà eseguito il codice di conseguenza per cui il comportamento diciamo così in modalità sincrona è un qualcosa che normalmente è meglio evitare però è molto più semplice da seguire se io lo vado a scrivere in questo modo per cui vado a scrivere uno script che utilizzi il nostro codice scusate le nostre modalità di accesso ajax in modalità vi dicevo sincrona che cosa devo fare qua allora quello che devo fare è andare a definire una variabile richiesta uguale new xml http scusate ho scritto script invece di script infatti non mi riconosceva xml http request quindi vado a definire una variabile rec in cui metto un oggetto il tipo xml http request a questo punto una volta che ho costruito questo oggetto vado a fare la richiesta punto open vado a dire che voglio fare un'operazione di get quindi l'operazione http di tipo get vado a mettere l'url che nel caso specifico è sostanzialmente questo oggetto quindi pianodistudi.json pianodistudi.json e poi vado a mettere false questo false qui mi va in pratica a dire che voglio fare una richiesta sincrona ovvero nel momento in cui faccio la richiesta javascript si blocca finché non arriva una risposta la richiesta sincrona in realtà non parte quando faccio open ma bensì parte quando faccio un'operazione di send ecco qui parte la richiesta sincrona 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 se siete qua in italia a un server che sta negli stati uniti e quindi c'è un tempo di viaggio quindi una latenza nella comunicazione significativa magari di qualche secondo vuol dire che la vostra pagina è bloccata completamente congelata per qualche secondo ok esperienza che immagino scusate abbiate già sperimentato su qualche sito e che però è legata a problematiche di limitazioni di come java può funzionare all'interno di un browser una volta che io ho fatto la richiesta sincrona abbiamo detto quello che posso andare a verificare è verificare che il risultato della richiesta sia andato a buon fine e quindi diciamo che posso fare un console.log vado a stamparlo così abbiamo poi l'output status e vado a mettere request.com status questo è sostanzialmente un numero che corrisponde al codice di stato che mi ha mandato indietro il server web normalmente mi manda 200 in realtà vedremo non sempre 200 è il codice da utilizzare perché c'è un altro codice che può essere utilizzato dal server e che è il codice 304 non vi sto a dare troppi dettagli sostanzialmente il codice 304 viene utilizzato quando il browser fa una richiesta dicendo io l'ultima volta che ho letto quel file erano le ore 15 e 35 del 18 maggio 2020 quel file è cambiato se è cambiato mandamelo se no dimmi semplicemente che non è cambiato ecco se non è cambiato la risposta è 304 questo viene fatto normalmente dai browser per evitare di dover ritrasferire i dati ogni volta quindi XML HTTP request fa sempre questo tipo di richieste che sono condizionali quindi se lo status è uguale a 200 oppure rec status è uguale a 304 allora richiesta è andata a buon fine ovvero il server mi ha mandato i dati su 200 oppure il server mi ha confermato che i dati che io ho già nella mia cache erano aggiornati 304 a questo punto i dati che ho ottenuto quindi il diciamo così var contenuto è uguale a rec punto response text dentro questa variabile io ho i miei dati ovviamente quello è testo quindi è sostanzialmente eccolo qua questa sequenza di caratteri quindi il carattere di quadre una capo due spazi una graffa delle virgolette eccetera eccetera se io in realtà ho un formato json è perché voglio andare a utilizzare quel contenuto convertito in un oggetto per cui quello che andrò a fare è json punto parse del mio contenuto vado a definire la variabile qua esterna quindi var json data scusate sto riformattando tutto così è corretto a questo punto vado a dire json data uguale a json punto parse questo dovrebbe avermi preso i miei dati e avermi messi a disposizione a questo punto posso fare un console punto log ad esempio stampare direttamente json data per cui se io vado a fare una visualizzazione di questo file html se non ho sbagliato nulla scusatemi il contenuto me l'ha aperto un altro schermo ok questo è il contenuto ovviamente bianco perché non ci abbiamo messo nulla però se vado ad aprire la mia console vedete che ho status 200 qui in basso e poi ho un array l'array che è sostanzialmente quello che abbiamo letto ed era contenuto all'interno del json quindi se io vado ad espandere questo array ecco che ci ritroviamo esattamente il contenuto che era qua ok tale e quale già formatato come oggetto javascript e quindi essendo un array io posso andare a fare un'iterazione posso fare quello che voglio posso ad esempio andare a prendere allora qui ho messo un po' di funzioni di utilità ho un table to html quindi posso andare a copiare questa funzione nel nostro corso di studio e se do una funzione per pulizia la vado a mettere qua sostanzialmente vado a creare un element tipo table vado ad aggiungere i vari table raw gli header eccetera eccetera e poi vado a restituire l'oggetto che cosa faccio h1 diciamo piano di studi e qui vado a mettere ad esempio una section con id uguale tabella e qui semplicemente vado a dire var tabella uguale chiamo questa funzione table to html element passandogli il mio json data e poi vado a dire document punto get element by id tabella punto appende tab quindi vado a mettere qui dentro la mia tabella per cui se vado a ricaricare la pagina chiudo la console non mi ha fatto nulla non mi trova table to html element perché ah perché qui ho copiato male e quindi non me l'aveva letto correttamente ok allora ricarico la mia pagina e ho la mia tabella attenzione se vado a vedere la rete e vado a ricaricare tutto vedete che allora riduco un attimo le dimensioni così si legge meglio allora questo è il tempo di caricamento della della pagina principale l'html ok qui dentro a un certo punto parte è accodato nel senso che ho semplicemente fatto reload c'è un tempo di waiting quindi 5 millisecondi e poi c'è un millisecondo in cui il contenuto html arriva ovvero il contenuto html è tutto quello che vediamo qua nel file html tutti questi caratteri poi in tutto questo periodo cosa succede il browser sostanzialmente vedete che finiamo in praticamente 7 20 millisecondi diciamo con un po' di ritardo diciamo in 10 millisecondi abbiamo ottenuto la pagina html dopodiché da questo momento qui fino a questo momento qui che cosa succede il browser inizia ad assemblare l'html visualizzare pezzo dopo pezzo quindi visualizzerà h1 visualizzerà andrà a costruire quella quell'elemento di tipo section vuoto e poi passerà ad eseguire il codice javascript quindi ci impiega un po' di tempo e poi finalmente va a eseguire il codice javascript all'interno del codice javascript c'è un momento in cui viene fatto l'invio della richiesta di tipo html http request questa richiesta vedete che impiega 8,5 millisecondi quindi ci impiego molto più tempo cioè molto di più più tempo rispetto a caricare tutta la pagina html pur avendo una dimensione che vedete 1,5k 1,6k questo è tutto il tempo di attesa ok ho mandato la richiesta aspetto che mi risponda il server il server a un certo punto risponde e io riesco a scaricare tutto il contenuto in 0,1 millisecondi tutto questo tempo di attesa che essendo di 8 millisecondi io non l'ho neanche notato potenzialmente potrebbe essere non di 8 millisecondi magari di 8 secondi se come vi dicevo prima il server è lontano c'è traffico nella rete o altro il server è impegnato e quindi non risponde immediatamente per questo motivo un meccanismo di tipo diciamo così sincrono non è l'ideale perché in questo frangente di tempo la mia pagina sostanzialmente è bloccata tra l'altro è bloccata tutta la parte successiva della pagina finché non ho eseguito quel frammento di codice javascript il resto della mia pagina html non viene minimamente presa in considerazione cioè il browser non c'è ancora arrivato la soluzione quindi è quella di andare a utilizzare un approccio che non è sincrono quindi aspetto prendo i dati e li mando ma bensì è un approccio asincrono che è l'approccio per cui è stato pensato javascript l'approccio asincrono ovviamente lo posso fare in qualunque momento in particolare quello che posso fare allora vi lascio questa variante così e vado a crearvi un corso di studio a assincrono ok così abbiamo le due varianti in due file separati cosa faccio? allora questo potrei metterlo tranquillamente qua esattamente in fondo scusate allargo così riuscito a leggere meglio che cosa faccio? allora fino a questo punto eccoci qua la procedura è la stessa l'unica differenza è che qui invece di mettere false vado a mettere true a sincrono non faccio il send subito ma bensì faccio un'altra operazione prima vado a dire request punto on ready state change questo è una proprietà dell'oggetto XML che dice request che contiene una funzione che verrà chiamata quando l'evoluzione della mia richiesta avanza abbiamo diversi stati quindi inizio da una versione iniziale in cui la richiesta è ancora appena creata poi è aperta poi è inviato i dati diciamo che l'ultimo l'ultimo stadio è quello che viene chiamato lo stadio di done ovvero la richiesta è completata e i dati sono arrivati e quindi qui vado a mettere sostanzialmente una funzione funzione che verrà chiamata quando i dati arrivano quindi console.log sono arrivati i dati dal server i dati dal server in realtà non sono arrivati quando chiamo questa funzione ma quando chiamo questa funzione e sostanzialmente richiesta punto ready state è uguale a richiesta o meglio xml http request punto done ecco in questo caso si sono arrivati i dati dal server quindi quando ready state che è una delle proprietà dell'oggetto xml http request che stiamo utilizzando ha come valore done vuol dire che è completato questa proprietà viene aggiornata automaticamente man mano che noi andiamo a noi l'oggetto http request avanza nel suo attività di richiesta a questo punto quello che ci resta da fare è una volta che sono arrivati i dati andare a verificare esattamente come abbiamo fatto prima che lo stato sia corretto e poi andare a riempire la nostra tabella giusta osservazione in chat quindi questo è un doppio uguale ok credo ci fosse anche un warning da qualche parte ok sì quindi uguale o se vogliamo essere ancora più conservativi il triplo uguale ok per garantire che sia effettivamente lo stesso valore nel nostro caso basta il doppio uguale a questo punto sono arrivati i dati andiamo a stampare lo status che sarà un 200 o un 304 il triplo serve per garantire che non ci sia nessuna conversione in questo caso questa è una costante e qui sono sicuro che ci sia una costante che è una di quelle e quindi se metto il triplo garantisco che non ci sia nessuna conversione se metto il doppio potrebbe esserci una conversione in questo caso specifico non è così non c'è una grande differenza nel senso che tanto so che quello è un valore il rischio se si vado a confrontare un null o uno zero allora sì effettivamente rischio di avere un comportamento che non è esattamente quello corretto anche qua sotto il confronto tra rec status e 200 potrebbe causare una type coercion quindi potrebbe convertire per cui se voglio essere assolutamente sicuro vado a mettere il triplo uguale sia lì che qui nel senso che se in status invece di esserci 304 come numero ci fosse la stringa 304 quel confronto fallisce ok? se invece metto il doppio uguale significa che se nello status c'è la stringa 200 quindi 200 il confronto invece è successo quindi in questo caso volendo essere molto più laschi va bene il confronto col doppio uguale dopodiché faccio la stessa cosa di prima cioè vado a fare il json parse stampo i dati vado a crearmi l'oggetto della tabella e lo vado a mettere dentro il mio oggetto ovviamente qui invece di mettere var per pulizia questo possiamo anche toglierlo qui possiamo mettere un let e qui possiamo mettere un let un json data attenzione che l'et json data non lo metto qua dentro perché altrimenti rischio di avere la visibilità della variabile limitata a questo blocco mentre invece a me interessa utilizzarlo qua sotto ok attenzione tutto questo potrei anche se vogliamo essere ancora più puliti metterlo qua dentro a questo punto facciamo così per cui se la fine non è se lo stato di risposta del server non è o 200 o 304 non vado a creare nessuna tabella ok che è addirittura meglio a questo punto dopo aver detto nel momento in cui c'è una variazione di stato della mia richiesta chiama questa funzione e aver detto che la funzione è tutta questa ecco che posso mandare un request.send vi faccio notare che se io qua vado a mettere un'operazione di questo tipo quindi tabella append document punto create text node hello in quella posizione significa che appena ho mandato la richiesta vado ad aggiungere questo testo dentro il mio elemento questo qua mentre invece questa operazione di lettura del contesto scusate della risposta conversione json generazione della tabella e aggiunta invece viene fatta dopo quindi mi ritrovo quelle low prima della mia tabella ok per cui se vado ad aprire una pagina con il contenuto scusate mi ha di nuovo messo il tutto nell'altra pagina ve lo riporto di qua ecco vedete che all'interno della mia pagina mi ritrovo prima hello e poi la mia tabella che è questa allora domanda questi argomenti sono per completezza del corso no questi argomenti sono fondamentali per poi andare a disegnare la visualizzazione quindi voi partirete da un file che può essere un file json come questo o un file csv che voi andate a creare e nella pagina html per andare a importare i dati dovete caricarli utilizzando una richiesta ajax tenete presente che in questo caso io vi ho fatto vedere tutti i passaggi volendo si possono fare le stesse operazioni utilizzando la libreria plot ad esempio o un'altra libreria che si chiama jquery con una semplice chiamata che è già data quindi io vado semplicemente a dire caricami questo url ti passo la funzione che potrebbe contenere esclusivamente questa parte e poi tutto il resto della chiamata dell'oggetto xml htp request me lo posso dimenticare quindi è un po' come se io facessi definissi una una funzione carica json uguale function vado ad aprire una funzione in cui metto praticamente tutto questo la funzione ha quello che diciamo una callback e io qui vado semplicemente invece di fare questa chiamata a fare callback ecco il passo json data e quindi questa parte la andrò a fare qui dentro quindi chiamo la funzione carica json e vado a mettere una funzione chiamo così freccia quindi tutta questa parte che io vi ho scritto è già data ed è presente in tante librerie che vedremo nelle prossime lezioni quello che noi dobbiamo fare è semplicemente andare a dire carica json ho dimenticato l'url qua ovvero piano su punto json quindi questa funzione la scriviamo un po' più generale in cui andiamo a mettere l'url per cui dando quella funzione per scontata in realtà ve la potete copiare ve la potete utilizzare quello che devo fare è andare a chiamare la funzione dirgli dove andare a trovare i dati quindi dire l'url dei dati e poi scrivere questa funzione che è quella che permette di andare a fare l'operazione questa funzione carica json possiamo tranquillamente toglierla da qua e andare a metterla ad esempio in questo file utilities per cui qui invece di copiare il contenuto di questa funzione posso tranquillamente andare a mettere un src uguale a vqt dis.js ok quindi questo è quello che voi doveste essere in grado di fare ovviamente come funziona ajax si è un qualcosa di in modo che voi sappiate di cosa si tratta voi dovete sapere che se dovete utilizzare già ajax chiamerete una funzione che si chiama carica json o qualunque altra funzione delle librerie che ancora vedremo e poi saprete che arriverà un dato che io potrò andare a utilizzare ad esempio per generare una tabella per fare un grafico cosa che poi vedremo con le altre librerie direi che abbiamo sforato leggermente oggi ma direi che l'argomento con cui abbiamo iniziato la lezione era forse molto interessante quindi a questo punto chiuderei la lezione di oggi vi pubblicherò un'altra un'altra lezione che riguarda una libreria che si chiama jQuery il prossimo laboratorio sarà per l'appunto su json e quindi si tratterà di fare cose simili a quelle che avete già fatto però utilizzando i dati non presenti già all'interno della pagina html ma caricati attraverso una procedura ajax da un file tipo csv o tipo json in cui sono contenuti e che è separato dal file html vi metto ovviamente a disposizione questo codice in modo che voi possiate dare un'occhiata grazie a tutti Grazie a tutti